A tre anni dal terremoto, dagli eventi sismici del 2016, lo stato della situazione nel comune di Cortino qual è? Oggi abbiamo concluso tutto nella fase emergenziale, tutti i puntellamenti delle case, quindi nella prima fase dove ci hanno attribuito le responsabilità, la legge attribuisce le responsabilità per quanto riguarda la messa in sicurezza di edifici, abbiamo concluso quella fase lì, sul privato. In più abbiamo ricostruito due muri di contenimento crollati, quindi abbiamo potuto riaprire due paesi perché erano crollati sulla strada, quindi abbiamo rifatto bei lavori rispetto al... Di che paesi si tratta? Si tratta di Elce del comune di Cortino e Padula, abbiamo fatto un bel lavoro veramente serio e quindi abbiamo rimesso in sicurezza anche le due strade. Poi abbiamo ottenuto il finanziamento per la ricostruzione comune, della scuola, della ex caserma forestale per farci quattro appartamenti, abbiamo ottenuto il finanziamento per il rifugio montano di 160 mila euro che è per i pastori o comunque per un po' di turismo, quindi diciamo nella fase emergenziale abbiamo molto lavorato e c'è stata una risposta da parte delle istituzioni, soprattutto la protezione civile regionale che devo dire per fortuna che c'è. Il comune che è attualmente ospitato in una struttura a Cunetta dunque tornerà dopo la strutturazione della sede a Pagliaroli? Sì, sia il comune sia la scuola e anche le case popolari per esempio di Pagliaroli, ancora però lì è competenza dell'Ater quindi sì, stanno lavorando immagino e quindi spero che a breve si possano far rientrare anche le sei famiglie che abbiamo dovuto sgomberare lì, quindi diciamo nella prima fase è andata molto bene, la fase emergenziale con la protezione civile e la ricostruzione normale che non decolla. A livello di viabilità, che è un tasto dolente soprattutto per le aree interne, qual è la situazione? Ci sono stati degli interventi da parte della provincia? Sì, fino a qualche giorno fa sono stati interventi importanti, qui dobbiamo fare finanziati, finanziati, quindi progettati e finanziati circa 9,5 km di asfalti, oltre il 50% è stato già fatto, adesso dovranno riprendere i lavori e quindi finire l'ultimo tratto della 47 qui, alcuni pezzi che vanno a Faieto, quindi la frazione più abitata, alcuni pezzi che vanno a Cortino, quindi a brevissimo mi hanno garantito che ritorno alla ditta e finiamo a fare anche questi lavori, che erano necessari perché ormai le state provinciali sono diventate veramente collabrodo. Qualcuno che non riesce ancora a capire, per esempio per noi la striscia bianca centrale è determinante l'inverno, quando c'è la nebbia, quando c'è... è determinante, non si vede nulla, quindi io non faccio altro che chiedere quantomeno la striscia bianca centrale in modo che una persona riesce a guardarla e sa che sta al centro della strada perché altrimenti non si vedono neanche i dirupi.